Cluster nel reparto di medicina su 18 ricoverati, 9 sono risultati pazienti positivi. Nel pomediggio di ieri erano usciti fuori altri numeri, si diceva 13, sarebbe stato un grosso focolaio. Alcuni sono stati rimandati a domicilio, 4 o 5 sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive. Resta sempre alto il numero dei ricoverati non vaccinati sia in malattie infettive che nell'RSA, dove al momento ci sono 15 pazienti per una capienza fino a 60.